Erano sospettati di essere i responsabili dei numerosi furti all'interno delle auto in sosta sul lungomare, ma quando i carabinieri hanno provato a fermarli per un controllo sono fuggiti per essere poi speronati da una pattuglia in borghese. E' successo a Bari dove i militari hanno fermato dopo un rocambolesco inseguimento un pregiudicato 39enne e un 17enne. I due erano stati intercettati nella zona del faro di San Cataldo da due pattuglie in borghese dei carabinieri che avevano iniziato a seguire i loro movimenti. Accortisi di essere seguiti si sono dati alla fuga a bordo di uno scooter runner 125 ignorando l'alt intimato dai militari. L'inseguimento è finito nei pressi del lungomare Starita quando un'altra pattuglia in borghese dei carabinieri li ha speronati facendoli finire a terra. Tutte le fasi dell'inseguimento sono state registrate dai circuiti di videosorveglianza della zona di cui vi mostriamo le immagini. Dopo gli accertamenti di rito il 39enne è stato arrestato per resistenza e guida senza patente mentre il minore è stato denunciato e riaffidato ai genitori.